Allora, confesso, fino a qualche settimana fa il mio TED parlava di Mario Draghi e di come il suo governo riuscirà a rilanciare l'Italia, soprattutto agli occhi degli investitori internazionali. Scrivo di politica italiana per Bloomberg e questo è il motivo per cui sono stata invitata su questo palco dal team del TED. Poi però un giorno mi sono svegliata qualche settimana fa con dolori muscolari, febbre, tosse. Avevo il Covid. Ora, è un'esperienza comune a molti di noi. Proprio quando mi iniziavo a sentire meglio e speravo di avere risparmiato da questa malattia la mia famiglia, mio figlio di un paio d'anni ha iniziato ad avere la febbre alta. Nella notte che è seguita, che è passata fra tachipirina e pezze bagnate, però sdraiata accanto a lui, accanto al sulettino montessoriano, non ci sono stata io, ma mia moglie, che da quando nostro figlio è nato ha assunto un po' il ruolo che in inglese definiamo primary parent e in italiano mamma chioccia, quindi la mamma che gli stirerà le camicie finché non avrà 45 anni. Poi dal Covid siamo anche guariti e questa storia sarebbe noiosa, un po' banale, molto comune, se non fosse per un fatto. Che se quella notte nostro figlio fosse peggiorato all'improvviso e avesse avuto necessità di andare in ospedale al pronto soccorso, mia moglie non avrebbe potuto portarla da solo, in quanto di fronte alla legge lei non ha alcun legame con il bambino e non avrebbe potuto prendere delle decisioni per lui, in quanto il genitore biologico sono io. Ed è per questo motivo che quella notte, mentre aspettavamo che la tachipirina facesse effetto, mentre lei era sdraiata accanto al lettino, io invece mi sono messa al computer, che è la cosa che mi viene meglio, e mi sono messa a scrivere e ho riscritto di getto il discorso che sto facendo questa sera. Ora, provate a svegliarvi un giorno e non avere più nessun documento disponibile, non avere un passaporto per andare all'estero, non avere una carta d'identità se vi ferma la polizia e vi chiede chi siete, non avere un codice fiscale per fare quelle robe tipo con lo speed online. E' così che mia moglie si sente ogni volta che è da sola con il nostro figlio. Il che succede spesso, perché abbiamo detto una mamma chioccia e io seguo politica per Bloomberg e quindi sono spesso fuori, soprattutto nelle ultime settimane. Ed è per questo motivo che questa sera vi voglio provare a raccontare la politica contro luce, quindi provare a analizzare la politica partendo dalle zone d'ombra. Negli spazi infatti che sono lasciati vuoti dall'intervento del Parlamento che ha il potere legislativo e di quello del governo che ha il potere esecutivo, infatti trovano spazio tantissimi altri organi dello Stato. Un esempio sono i tribunali e le procure. E' quanto è successo a noi. Infatti il nostro caso e la nostra situazione legale non sono sempre stati così. Quando abbiamo deciso di mettere su famiglia in un paese che non riconosce le famiglie omogenitoriali, infatti io e mia moglie abbiamo iniziato a documentarci. Abbiamo scoperto che alcuni comuni italiani, tra cui per esempio quello di Fiumicino, dove abbiamo una casa, riconoscevano atti di nascita con due mamme. E quindi abbiamo percorso questa strada. Il giorno in cui siamo andati in comune per firmare tutte e due questo attito di nascita è uno dei ricordi più belli e più confusi della mia vita. Avevo partorito da poche ore, abbiamo fatto un'ora di autostrada, arrivati in comune, io ero confusissima. Della firma non ricordo nulla. Ma il grande ricordo di quella giornata è il tramezzino tonno e pomodoro che ho mangiato al bar di fronte del comune aveva una fame e boia dopo tre giorni del primo pasto solido. Ora, anche qui la storia sarebbe conclusa se non ci fosse un colpo di scena. Nel senso che non essendo atti riconosciuti da una legge nazionale, questo tipo di certificati di nascita possono essere contestati o impugnati. Ed è successo nel nostro caso. Quindi la procura competente ha identificato questo atto come non conforme alla legge nazionale e ci ha citato in tribunale. È stata una causa velocissima. Ci si lamenta sempre della giustizia italiana, per me è stato un attimo. Ero genitore single. È una situazione in realtà molto comune a tantissime famiglie. Si chiamano famiglie arcobaleno. Io sono curiosa, vorrei sapere chi di voi stasera conosce una famiglia con due mamme o due papà? Alzi la mano, dai, su via. Noi evidentemente abitiamo in un quartiere parecchio gay perché quando siamo andate dal nostro avvocato per farci difendere ci ha chiesto due volte l'indirizzo e ci ha detto siete sicuri che sia giusto? Perché lui l'aveva già segnato su un altro fascicolo in quanto proprio nel nostro condominio c'è un'altra famiglia di due mamme che sta seguendo un percorso simile. Ora ovviamente siamo diventati amici e noi fra qualche settimana partiremo insieme per la Sardegna ma nel frattempo cosa sta facendo il governo? Ora vabbè il governo se ci sarà la risposta è poco o nulla e non perché infatti mi capita molto raramente di scrivere di questi argomenti per Bloomberg e non perché in realtà non sia di interesse agli investitori internazionali che guardano all'Italia anzi la tutela dei diritti civili contribuisce al fattore diciamo di interesse per investire in un paese semplicemente non ci sono le notizie una delle prime volte in cui ho scritto di questi temi è stata nel 2016 quando il governo ai tempi guidato da Matteo Renzi ha introdotto la legge sulle unioni civili è uno dei pochi casi in cui si è approvata una legge nazionale che tuteli una famiglia che è diversa da quella composta da un uomo e una donna però ha un grande vuoto ovvero non prevede alcuna tutela per i minori ho riscritto poi di diritti civili qualche mese fa quando si parlava tantissimo della proposta di legge Zan peraltro Alessandro Zan è un deputato veneto aveva portato avanti questa proposta di legge per inserire una punizione per i reati di questo tipo in quel caso la proposta di legge è stata bloccata in Senato ora noi giornalisti amiamo gli scoop, le notizie ma non mi aspetto alcuna breaking news su questo fronte e non perché in realtà Maria Draghi potrebbe non essere a Palazzo Ghigi la prossima settimana semplicemente perché inserire delle leggi su questi argomenti è estremamente difficile anche per un governo forte e con un mandato politico sono argomenti divisivi, inutile dirlo e quindi noi che facciamo? ecco noi ci stiamo rifacendo come famiglia gli strumenti previsti dalla legge quindi abbiamo iniziato un percorso di adozione mia moglie ha chiesto formalmente di adottare nostro figlio abbiamo fatto dei colloqui con psicologi, assistenti sociali abbiamo fatto un'udienza al tribunale dei minori e siamo in attesa di una sentenza che speriamo riporti presto la situazione allo stato in cui era i giorni in cui mangiavo quel tramozzino buonissimo, devo assolutamente tornare in quel bar quindi un bambino con due genitori e due cognomi ora siamo in Veneto che è una terra di montagne la conosco bene perché è un caso ma mia moglie è proprio di lì è nata a pochi chilometri da qui quando la sera cala il sole la roccia delle montagne vista contro luce è compatta si vedono solo i contorni ecco io vi ho raccontato la storia della nostra famiglia perché la nostra storia è una scanalatura scavata nel fianco di questa montagna, nella roccia l'ho illuminata per questo vi lascio con un pensiero provate a immaginare qual è l'impronta unica che voi, la vostra storia, le vostre famiglie stanno scavando nella politica italiana grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille